Sì, è un grande rammarico perché abbiamo fatto vedere delle cose importanti, di qualità. Rammarico soprattutto nel primo set perché abbiamo commesso degli errori anche ingenui che ci sono costati il set. Eravamo partiti bene nel primo set, siamo anche strappati allungati, ma non abbiamo avuto la giusta attenzione per chiudere il primo set. Una squadra come Cuneo, forte e completa, va aggredita dal primo punto e essere precisi in ogni istante. Purtroppo il primo set l'abbiamo buttato via, bravi ragazzi a ribaltare, vincere il secondo e il terzo. Siamo calati alla distanza, merito sicuramente di Cuneo che ci ha messo in grosse difficoltà sbagliando poco, murando e difendendo tanto. È un punto comunque che ci continua a portare avanti il nostro percorso. Partiamo, abbiamo per la prima volta avuto la squadra al completo, anche se solo a metà di questa settimana siamo riusciti a allenarci tutti quanti insieme. Questo deve essere un punto di partenza per proseguire la parte finale della stagione. Grazie.